... Questo va più veloce di quello di prima Buona mia impressione Eh, non vedo... Sì, si schiaruzza, è brutto anche Adesso quell'elicattro là pensa che sono dei terroristi ci bombardano le... Registra anche l'audio, eh Ah sì Quindi anche le mie cazzate Che bello E vabbè fa niente Però voi